Che cosa sono i megapixel? Ne abbiamo veramente bisogno e in che modo contribuirebbero a rendere migliori le nostre fotografie? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e oggi voglio andare a fare un video semi-definitivo su questo argomento, nel senso che molti di voi mi hanno chiesto quanti megapixel mi servono per lavorare, di quanti megapixel ha bisogno il sensore della mia fotocamera. Oggi vado a dimostrarvi innanzitutto che cosa sono i megapixel. In secondo luogo andremo a vedere quanti megapixel servono per i vari scopi a cui possiamo dedicare la nostra arte fotografica. In definitiva andremo a scoprire se mettere tanti megapixel sul sensore di una fotocamera serve a rendere migliori le nostre fotografie o serve solamente a convincerci che la fotocamera nuova sia migliore della precedente. Prima di cominciare io vi consiglio di iscrivervi al mio canale cliccando il bottone qui sotto perché ci saranno altri contenuti come questo in cui andremo a esaminare falsi miti, vi porterò tutorial, trucchi del mestiere, recensioni di strumentazione e ne parleremo poi nei commenti perché io spesso vi rispondo con dei video verticali, quindi chi si iscrive adesso non rischia poi di perdersi questi contenuti. Benissimo, ma a questo punto io direi facciamo un salto all'interno del mio computer. Come potete vedere qui abbiamo una delle ultime fotografie che ho postato su Instagram. Andate pure a vedere il mio Instagram ma io vi sconsiglio di scrivermi lì. Lo sto dicendo spesso ragazzi, non scrivetemi su Instagram, commentate qui sotto perché se scrivete su Instagram io su Instagram entro una volta al mese e la sezione commenti la apro una volta ogni 40 giorni. Quindi se mi iscrivete qui vi rispondo in fretta, se mi iscrivete lì e mi dite guarda ho un'emergenza domani devo fare delle fotografie al compleanno della zia Ernesta che cosa devo portarmi vi rispondo che è già passato il compleanno della zia Ernesta quindi è meglio se mi commentate qua. Ad ogni modo questa qui è una delle ultime foto che ho postato su Instagram. Come potete vedere questa è una fotografia che misura 6720 x 4480 pixel. Ora se noi andiamo a moltiplicare lato lungo per lato corto otteniamo 30 megapixel. Questa è una fotografia da 30 megapixel scattata con la Canon EOS R che è una fotocamera che appunto ha 30 megapixel sul sensore. Comincio col presentarveli questi pixel. Se noi andiamo a zoomare vedete che a un certo punto eccoci qui questi sono i pixel. questi simpatici quadratini colorati sono i pixel della nostra immagine. Ora non stiamo a contarli ma i pixel in questa foto sono 30 milioni. Quindi ovviamente un'immagine con più megapixel è un'immagine più grande in cui possiamo zoomare di più. Se questa immagine fosse stata più piccola, se fosse stata da 12 megapixel avremmo visto i quadratini che la compongono molto prima. In questo momento noi siamo a 30% e 500%, 6.400%, 12.000%. Capite che abbiamo zoomato un bel po', abbiamo zoomato il 12.800% e adesso intravediamo i mattoncini che compongono la nostra fotografia. Questo cosa significa? Più mattoncini abbiamo, più grossa è la nostra immagine, più difficile sarà che la nostra immagine sgrani. Perché è più grande e quindi ci consente uno zoom maggiore senza perdere qualità. Ecco però che dobbiamo domandarci una cosa. A me serve una foto da 30 megapixel? E parliamoci chiaro, oggi io so benissimo che il 99% delle persone che scattano foto le mettono esclusivamente sui social. E allora andiamo a vedere che dimensioni ha una fotografia postata sui social. Quindi questa stessa fotografia che abbiamo visto, questa fotografia da 30 megapixel, vediamo come si comporta una volta catapultata su Instagram. Eccoci qui, questa qui è la nostra fotografia caricata su Instagram e questo è uno screenshot dal telefono. Quindi questa è esattamente la situazione che vediamo quando apriamo il nostro telefono cellulare. Innanzitutto vediamo che questa immagine misura 2436x1125 pixel, quindi è molto più piccola rispetto a prima. Ma io vi dirò di più, stiamo prendendo in considerazione anche l'interfaccia di Instagram, quindi adesso andiamo a fare una bella cosa. Andiamo a selezionare più o meno la nostra fotografia e andiamo a ritagliarla, così abbiamo ottenuto quello che vediamo effettivamente nel quadro della foto. Se andiamo a riprendere la misura vedete che è 1404x1125, quindi la larghezza chiaramente è rimasta la stessa. L'altezza è cambiata. Se noi andiamo a moltiplicare lato lungo per lato corto otteniamo 1,5 milioni di pixel. Quest'immagine è meno di 2 megapixel. Quindi questo che cosa ci dice? Che io l'ho scattata 30 volte più grande di quello che mi serviva veramente. 30 volte più grande praticamente. E perché l'ho scattata così grande? L'ho scattata così grande perché la mia macchina fotografica nativamente ha 30 megapixel e quindi io l'ho scattata gigante. È evidente che io l'ho scattata così grande perché a me piace, perché posso volerla zoomare per guardare meglio i dettagli e perché potrei volerla stampare. Nel momento in cui io la voglio stampare sul paginone centrale di un magazine avere 24-30 megapixel è la cosa giusta perché per andare in stampa la risoluzione conta molto di più che per il digitale. E andiamo proprio a vedere quanto è grande questa immagine nel momento in cui dovessimo andare a stamparla. Come potete vedere noi qui possiamo cambiare da pixel a centimetri e qui scopriamo che questa foto è grande 56x37. Quindi è una foto gigante. Questa qui è un'immagine che può essere stampata su formati decisamente grandi. Normalmente si stampano le 15x21 o formati simili quindi questa fotografia è grande più del doppio di quello a cui andremo a stamparla normalmente. Diciamo che una fotografia da 30 megapixel si presta bene per una stampa fine art, per un quadro, per una stampa di dimensioni notevoli. Quindi anche qui è stato utile scattarla a 30 megapixel, se l'avere un sensore da 30 megapixel tendenzialmente no. Perché probabilmente questa foto io non la stamperò, perché probabilmente la metterò online, sul mio sito, su Instagram, ma probabilmente non la stamperò. Ora con questo cosa voglio dire? Che avere tanti megapixel è completamente inutile? Beh no. Andiamo a fare un esperimento insieme. Questa come potete vedere è la nostra foto da Instagram. Noi adesso andiamo a zoomare su questo gruppo di persone. E vedete che arrivati a questo punto noi già vediamo i mattoncini. Io a questo punto già vedo i mattoncini che compongono la mia immagine. Quindi questi sono i pixel della foto di Instagram. In realtà io se zoomo a questo punto ho perso quasi completamente il dettaglio, perché vedo soltanto quadratini. Ma andiamo a fare la stessa cosa sulla fotografia originale. Vedete che se io vado a zoomare, e vado a zoomare più o meno allo stesso livello, circa, quindi così. Sì, vedete? Abbiamo la percezione di un po' di rumore, però nella fotografia originale abbiamo ancora il dettaglio, quindi possiamo zoomare molto di più e ricavare un dettaglio più piccolo della nostra immagine. Questo è molto utile per quelle persone che scattano avifauna o che scattano sport, e quindi magari si trovano in una posizione di svantaggio e il fatto di poter zoomare per ricavare un dettaglio di quello che stavano fotografando può essere molto utile. Senza contare ovviamente il piacere di poter ingrandire l'immagine per vederla bene. Quindi io ho scattato una fotografia, ma voglio ingrandirla a computer per rendermi bene conto di quello che ho scattato, di quello che c'è nella mia foto per godermi il dettaglio fine. Quindi avere tanti megapixel non è necessariamente sempre un male. Però dobbiamo anche essere consapevoli di questo. Nel momento in cui scattiamo per Instagram, noi stiamo lavorando su un formato di 1125 x 1405 circa. E questo significa che il nostro formato finale è grande così. Quindi vedete bene che abbiamo scattato una fotografia 20 volte più grande di quello che ci serve effettivamente. E potremmo pubblicare solamente quella piccola porzione, perché la risoluzione ce lo consente, è grande abbastanza. Anzi, noi possiamo prendere il nostro quadro e portarlo in giro e renderci conto. Vedete, io potrei fare un post su Instagram in cui ci sia solo il lampadario o solo il gruppo di persone che stavamo esaminando o addirittura neanche questo sedile è più grande, solamente questo sedile è più grande del mio formato finale su Instagram. In maniera del tutto simile possiamo stabilire quanto è grande questa foto in relazione al formato full HD. Questo che state vedendo è il formato full HD. Quindi 1920 x 1080 pixel, questo è un formato da 2 megapixel. Il full HD, i nostri televisori, il full HD sono 2 megapixel. Andiamo a vedere invece come si comporta il 4K, quindi 3840 x 2160 pixel. Come potete vedere è un formato più grande, sono 8 megapixel. Il 4K sono 8 megapixel, quindi in questo caso la nostra fotografia è 3 volte, circa 3 volte troppo grande rispetto al nostro formato finale. I video che vi faccio io sono registrati in 4K, quindi le mie fotografie sono molto più grandi rispetto al formato video che vi faccio vedere abitualmente. Questo che cosa ci dice? Di nuovo che io sto scattando le fotografie ha una risoluzione molto superiore rispetto a quella che poi mi serve effettivamente nella maggior parte dei casi. Bene, fin qui abbiamo visto che cosa sono i megapixel, a che cosa servono e come si comportano. Ma adesso andiamo ad affrontare quello che secondo me è il vero tasto dolente. Perché le case produttrici ci propongono delle fotocamere con così tanti megapixel e questa cosa ci aiuta davvero oppure no? Dovete sapere una cosa. Per avere tutti questi megapixel su un sensore dobbiamo modificarne la densità, ovvero un sensore ha una dimensione predefinita, il sensore full frame è 24x36, il sensore APS-C ha lo stesso rapporto ma è un pochino più piccolo, poi c'è il 4 terzi che è ancora un pochino più piccolo, le dimensioni del sensore sono già stabilite, quindi un sensore più grande di così non può essere. O meglio, ci sono dei sensori più grandi ma sono altre fasce di prezzo, altri tipi di fotocamere. Sulle nostre fotocamere il sensore quello è e quello rimane. Questo significa che per mettergli più megapixel dobbiamo ridurne la dimensione. Ora, immaginatevi che ogni pixel, quindi ogni collettore sul nostro sensore, sia un bicchiere. Avete presente alle feste, quando si mettono i bicchieri di champagne uno sopra l'altro e poi si versa a cascata e tutti quanti i bicchieri vanno via via a riempirsi. Il nostro sensore funziona in maniera più o meno simile nel senso che ogni bicchiere va a raccogliere una certa quantità di luce. Ecco però che se noi abbiamo dei bicchieri, delle coppe grandi, andranno a raccogliere tante informazioni. Se noi abbiamo dei bicchieri piccoli, la quantità di informazioni che riescono a catturare sarà inferiore. Questo che cosa ci dice? Se noi abbiamo un sensore con tanti pixel molto piccoli, avremo una performance peggiore quando lavoriamo ad alti user, avremo una gamma dinamica ridotta. Mentre viceversa, un sensore con pochi megapixel avrà una performance migliore sotto questi due punti di vista. Quindi vi posso parlare per esempio della Sony Alpha 7S III, una macchina che è stata pensata per fare video e che ha 12 megapixel. È una macchina che io ho avuto il piacere di provare e anche di distruggere. Ho già pubblicato un video a questo proposito, purtroppo quella macchina è stata distrutta, ma è stata riparata. In realtà ho sentito dopo dal noleggiatore che è stata riparata, quindi non l'ho uccisa, l'ho solo ferita gravemente. Quella è una macchina spettacolare dal punto di vista video, perché avendo 12 megapixel ha una performance ad alti ISO semplicemente paurosa e ha una bellissima gamma dinamica proprio in virtù del fatto che avendo un sensore di quelle dimensioni, ma con dei pixel più grossi, con dei collettori più grossi, riesce a restituirci una performance migliore. Questo che cosa significa? Che le mie fotocamere da 30 megapixel fanno schifo, performano molto peggio? Beh, sicuramente performano peggio da quel punto di vista. Sicuramente per quanto riguarda tenuta ad alti ISO e gamma dinamica performano indubbiamente peggio della Sony Alpha 7S III. Questo è necessariamente un male? Dipende. La maggior parte delle volte io non vedo neanche la differenza perché faccio delle cose in cui tutta quella performance non mi serve o comunque non è indispensabile. Una cosa è sicura. Quando io mi vedo proporre da un venditore un corpo macchina da 40-60 megapixel immediatamente storco il naso perché anche se è vero che tecnologicamente, digitalmente si riesce a ovviare un po' a questi difetti ormai quindi digitalmente l'immagine viene elaborata e processata per diminuirne il rumore digitalmente l'immagine viene elaborata e processata per aumentarne la gamma dinamica così che io percepisca di meno lo squilibrio tra tutti questi megapixel quindi collettori piccoli e la resa finale della mia immagine. A livello globale, sul risultato finale io noto poco la differenza perché comunque la tecnologia è andata avanti e le case in questo sono brave a farci vedere un prodotto finale bello sgargiante che ci dia un risultato gradevole però io so benissimo che io li sto pagando tutti quei megapixel la casa butta fuori un modello con 40-60-80-100.000 megapixel e mi fa pagare di conseguenza mi dice guarda questo è un modello da 100 megapixel me lo devi pagare 4.000 euro perché di solito i prezzi sono questi al che a me verrebbe da dire ma non potevate farmi un modello da 20 megapixel e farmelo pagare 2.000? perché quello io l'avrei comprato volentieri mentre un modello da 100 megapixel che costa 7.000 euro mi viene un po' indigesto ora fin qui ho lasciato una parvenza di dubbio perché comunque secondo me avere tanti megapixel può anche essere una cosa bella può anche essere una cosa che noi apprezziamo pensate semplicemente al matrimonio della cugina Agatha a cui la zia Ernesta si è rappresentata vestita di tutto punto però la zia Ernesta non ama farsi fotografare e quindi l'unica fotografia dove è venuta bene è la foto di gruppo con tutte le 190 persone invitate al matrimonio e allora noi che cosa facciamo? avendo tanti megapixel possiamo zoomare questa foto e andare a ritagliare il particolare della zia Ernesta che sorride è l'unica foto in cui sorride perché è stata un po' scontrosa quel giorno la zia Ernesta in questo caso avere tanti megapixel ci ha sicuramente aiutato in una foto diurna diciamo che le performance ad altisio dovrebbero pesare un po' di meno e la carenza di gamma dinamica si nota solamente in zone di forte contrasto quindi probabilmente se abbiamo esposto correttamente per l'incarnato la fotografia è corretta e va bene così a questo punto però voglio farvi vedere quello che secondo me è il vero problema di questa politica di mettere tutti questi megapixel torniamo un attimo nel mio computer venite con me come potete vedere qui abbiamo la fotografia scaricata da Instagram e come potete vedere questa immagine pesa 1,5 megabyte quindi è una fotografia piccola con pochi megapixel pesa poco è stata ridotta è stata scattata a una risoluzione superiore ma poi è stata ridotta quindi essendo stata ridotta adesso a meno megapixel e pesa di meno ovviamente è una foto che non possiamo stampare ha perso così tante informazioni che se la stampiamo sì se la mandiamo in stampa esce lo stesso il computer ce la stampa però non viene bene e adesso andiamo a vedere quanto pesa l'originale e come potete vedere l'originale che è più grande perché è 30 megapixel ma chiaramente pesa di conseguenza l'originale pesa 45 megabyte non 1,5 45 quindi fatevi la moltiplicazione pesa 40 volte di più all'incirca il vero problema di mettere così tanti megapixel il problema incontestabile di mettere così tanti megapixel secondo me è questo il problema è che con delle fotografie così pesanti a me basta pochissimo per riempirmi la memory card e quando torno a casa ho il computer e l'hard disk che soffrono perché sono pieni di fotografie pesantissime e quindi devo stare molto attento devo stare molto attento a quante ne faccio io non posso prendere una macchina da 40 megapixel e fare tutte le foto che voglio perché poi devo pensare che quando torno a casa mi ammazzo il computer mi ammazzo l'hard disk devo comprare un hard disk nuovo e devo comprare un computer nuovo e devo comprare dello spazio di archiviazione in cloud nuovo quindi spingendo sui megapixel ci stanno automaticamente spingendo anche a dover comprare delle cose in più e questa è la cosa che a me è veramente un po' secca e questo è il motivo per cui per esempio ho voluto comprare una macchina come R6 e non R5 è il motivo per cui sto cercando di scappare da tutti questi megapixel e quando vedo modelli nuovi addirittura a PSC che vengono lanciati sul mercato con 40 e passa megapixel io storco il naso perché so che quelle macchine avranno uno svantaggio fisico, costruttivo rispetto a macchine costruite con meno megapixel e in più mi riempiranno tutte le memorie di fotografie pesantissime che farò fatica a gestire questo è il motivo per cui secondo me bisogna stare attenti ai megapixel della nostra macchina fotografica ma non perché deve averne tanti perché deve averne pochi ormai deve veramente averne pochi tenete conto io ho parlato con diversi professionisti che vengono dal tempo della stampa, della pellicola e mi hanno detto tutti la stessa cosa con 12 megapixel fai qualsiasi cosa questo perché è vero vi ricordate quando abbiamo zoomato e abbiamo visto i quadratini è vero che se io vado a zoomare come un folle sul mio file vedo prima i quadratini se la mia fotografia ha una risoluzione inferiore però è vero anche che nel momento in cui io la stampo se io stampo una fotografia da 12 megapixel in formato nativo la guardo da una distanza di osservazione corretta la vedo tutto sommato giusta che cosa succede se io la stampo più grande? una fotografia da 12 megapixel la stampo su un formato così grande che perde un po' di risoluzione cosa succede? bravissimi che la vedo un po' sgranata però attenzione quando io stampo su un formato così grande non la guardo più da questa distanza mi allontano è parecchio anche ricordiamoci che la giusta distanza di osservazione dovrebbe essere due volte il lato lungo quindi se stiamo guardando un video su un televisore da 55 pollici la corretta distanza di osservazione dovrebbe essere 110 pollici dobbiamo stare un bel po' distanti per avere una corretta fruizione di quello che stiamo guardando ecco che se noi stampiamo una fotografia da 12 megapixel su un 6x3 ma lo guardiamo da 12 metri non si vede che è sgranata perché certo sarà un po' sgranata se andiamo a 15 centimetri lo vediamo che la qualità non è proprio eccelsa ma dalla corretta distanza di osservazione la vediamo giusta questo che cosa ci dice? che non abbiamo bisogno di 30 megapixel può farci piacere averli e vi dico una cosa a me piace averne tanti per esempio perché quando io vado a fare la post io vado a lavorare in post produzione magari scontorno le persone per fare una composizione o scontorno degli oggetti per fare qualcosa ritagli per un magazine qualsiasi cosa quindi a me può piacere avere tanti megapixel perché il mio ritaglio sarà più preciso lo scontorno dei capelli sarà più preciso questa è una cosa per cui a me piace molto avere tanti megapixel io quando scatto con la 5D Mark IV scatto a 30 megapixel e se devo ritagliare una persona mi piace molto lavorare così perché lo scontorno dei capelli e di certe parti fini viene molto meglio quindi può servirmi avere 30 megapixel però non mi serve a niente averne 40, 50, 60 non mi serve a niente e soprattutto quando vado in stampa non è neanche più vero che sono indispensabili perché comunque se io sto stampando la pagina di un magazine allora mi servono i miei 24, 30 megapixel ma oltre cosa stampo di più della pagina di un magazine che cosa mai dovrò stampare di così grande e soprattutto fruito dalla corretta distanza di osservazione chi se ne accorgerà se è un pochino sgranata questo semplicemente per dire cosa? per dire che i produttori spingono sui megapixel perché non sanno più che cosa venderci e il numero dei megapixel sono come i cavalli di un'automobile spingono su quel dettaglio perché è l'unico gancio che hanno per farci percepire che hanno migliorato qualcosa rispetto al modello precedente siamo arrivati a un punto in cui secondo me non sta più migliorando quello che ci stanno proponendo ma sta peggiorando perché la qualità d'immagine è ferma i box di partenza non c'è miglioramento dal punto di vista della qualità d'immagine è solo un miglioramento dal punto di vista della risoluzione ma questo miglioramento della risoluzione viene al prezzo di una gamma dinamica inferiore una performance quando c'è buio che è inferiore e un peso dell'immagine che è massacrante per noi per le nostre memory card per i nostri computer per i nostri hard disk e per il nostro stoccaggio delle immagini facciamo fatica a gestirle delle immagini così grandi e questo è il motivo per cui secondo me dovete fare molta attenzione ai megapixel sulle fotocamere che andate a comprare signori a questo punto io vi chiedo come sempre fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate siete d'accordo o non siete d'accordo a qualcuno di voi serve avere 60 megapixel perché attenzione ci può essere qualcuno di voi che mi dirà no io stampo su un 9x9 devo fare fotografie fashion e food e devo stamparle in un formato così grande per me è indispensabile avere i 80 megapixel di una Hasselblad o di altri modelli magari vi prego fatemelo sapere sono molto curioso di sapere se qualcuno che mi segue ha necessità di avere questi formati personalmente a me non capita mai parliamone comunque come sempre nei commenti a cui come sempre risponderò con degli shorts verticali per cui vi invito a iscrivervi al canale in questa maniera non ve li perdete signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video ciao